Mi sembra ieri che ero seduto nella sala dell'autoscuola per la prima lezione di teoria. Sono sempre stato appassionato di veicoli e prendere la patente è stato per anni un mio grande desiderio sia per guidare ma anche per essere indipendente. Sicuramente non avrei mai potuto immaginare che 13 anni dopo avrei avuto l'occasione di diventare insegnante di scuola guida. Anche se questo vuol dire stare 7 weekend lontano da casa e precisamente alle autoscuole Zonta a San Martino di Lupari in provincia di Padova dove frequenterò il corso da 145 ore. Gli argomenti più interessanti che ascolterò durante il corso saranno argomento ogni mercoledì d'ora in avanti di un video dedicato sul nostro secondo canale. Quindi se non siete ancora iscritti ad Ashkame e Sicurezza cliccate nel link in descrizione per rimediare e non perdere questi nuovi video. Insegnante o istruttore? Quello di insegnante è un primo passo fondamentale ma spero un domani di diventare anche istruttore. Anticipo la vostra domanda e la risposta è sì. Sono due cose differenti anche se spesso vengono confuse tra di loro. L'insegnante si occupa del corso di teoria mentre invece l'istruttore si occupa delle sessioni pratiche di guida. Sicuramente vista la mia esperienza vi chiedete come mai io stia facendo solo il corso da insegnante e non anche quello da istruttore però la risposta è molto semplice cioè non ne ho ancora i requisiti. Vediamo subito cosa ci vuole per diventare insegnanti o istruttori di scuola guida. I requisiti per diventare insegnante di scuola guida sono avere almeno 18 anni, non aver riportato condanne o essere stato dichiarato delinquente abituale, avere un diploma di scuola media superiore quinquennale, avere la patente bio superiore, la frequenza ovviamente del corso da 145 ore e poi lo scoglio più grande il superamento dell'esame di idoneità presso la provincia di residenza oppure un'altra provincia disponibile. Per diventare istruttore invece le cose sono un po' diverse. Innanzitutto l'età minima è di 24 anni e fino a lì ci sono, non aver riportato condanne o essere stati dichiarati delinquenti abituali, diploma di scuola media superiore triennale, possesso delle patenti ABC di CE, frequenza di un corso obbligatorio di 80 ore di teoria più 40 ore di guida e poi anche qua ovviamente il superamento dell'esame di abilitazione in provincia. Come avete visto ci vogliono tutte le patenti per diventare un istruttore, io ho solo la B quindi inizierò come insegnante e poi man mano affronterò anche la spesa di fare tutte le patenti per diventare un giorno istruttore. Quando poi avrò modo di farlo mi basteranno 10 ore di teoria essendo già insegnante, oltre a tutte le prove pratiche del corso e al fatidico esame di abilitazione. A proposito di esame vediamo cosa mi aspetta. L'esame di abilitazione. L'esame non è assolutamente una formalità come si potrebbe pensare ed è diviso in quattro sezioni differenti. La prima è composta da 80 domande a crocette stile quiz della patente per intenderci, in cui la tolleranza è bassissima, massimo due errori. Nella seconda fase poi bisogna sviluppare tre temi scritti su argomenti scelti dalla commissione svolti in un tempo minimo di due ore fino a un massimo di sei ore. La terza fase poi è la simulazione di una lezione di teoria davanti alla commissione, ovviamente su un argomento scelto da loro. Quarta ed ultima fase un'interrogazione orale sugli argomenti del programma d'esame. Ogni fase ha un suo punteggio specifico e bisogna raggiungere il minimo in ogni fase per poi poter ottenere l'abilitazione. Il metodo Zonta. Dopo essermi informato sui vari corsi disponibili, ho scelto le autoscuole Zonta perché Alessandro e Paolo hanno decisamente un approccio poco didascalico come quello che ci potrebbe aspettare dalla classica autoscuola ed infatti hanno anche un canale YouTube molto interessante che vi invito a seguire oltre poi ad aver sviluppato un metodo Zonta che modellano in base ad ogni corso. Nello specifico il corso per insegnanti e istruttori ha questi pilastri che lo sorreggono. Il corso è un insieme di discipline complesse come fisica, legge, medicina, autotrasporto e quindi è fondamentale avere professionisti come l'ingegner Giampaolo Baggio o la dottoressa Marianna Martini che sono figure autorevoli nel loro campo. Come abbiamo visto la prima fase dell'esame comporta 80 domande a crocette che sono la fase in cui la metà dei candidati viene bocciata. Per questo forniscono un'apposita app collegata al gestionale docenti che permette innanzitutto di esercitarsi ma poi anche di fare domande all'interno dell'app ai docenti sui quesiti specifici oltre a una cosa che secondo me è fondamentale cioè la notifica che ogni giorno ti ricorda di fare le tue esercitazioni. La fisica è naturalmente un argomento ostico soprattutto se parliamo di dinamiche stradali ma gli ingegneri che collaborano con Zonta hanno sviluppato un modulo didattico apposito fisica per insegnanti di scuola guida con un grande numero di esercizi svolti insieme proprio per comprendere appieno i concetti. Parlare in pubblico può essere un grosso ostacolo per chi non è abituato a farlo pensare poi di farlo davanti a una commissione non è proprio la migliore delle situazioni. Per questo le autoscuole Zonta durante il corso addestrano ognuno ad esporre un argomento in modo tale da imparare innanzitutto ad esporre i concetti ma poi anche a gestire le emozioni e si ha anche accesso ad un archivio online con tutte le video lezioni di teoria dei vari argomenti. Il tema scritto è sicuramente un grosso ostacolo infatti vengono fornite 160 tracce già svolte in modo tale da farsi un'idea e studiare gli argomenti più chiesti dalle commissioni insieme al loro svolgimento. Un aspetto che ho stavolutato durante la ricerca del corso giusto è che quasi tutte le province fanno una sola sessione all'anno di abilitazione per insegnanti e istruttori di scuola guida. Infatti mi stavo orientando su un corso molto più vicino a casa che però svolgeva lezioni serali con una durata complessiva di 4 mesi. Poi quando ho capito che è un percorso che va concluso in fretta per poter avere più sessioni disponibili ho scelto le autoscuole Zonta perché in 7 weekend intensivi si completa il corso e poi con il loro aiuto si accede alle prime sessioni disponibili per l'abilitazione. L'ultimo punto concerne solo gli istruttori però è utile da sapere che le esercitazioni pratiche sui veicoli avvengono tutte in sede con mezzi delle autoscuole Zonta e questo è un grosso vantaggio perché si può assistere in prima persona alle sessioni di guida di chi sta prendendo la patente per comprendere come si svolgerà effettivamente la propria comprensione e avere sicuramente più possibilità di passare l'esame. Spero che questo video vi sia stato utile per capire meglio il grosso passo che sto facendo ed in generale cosa vuol dire diventare insegnante o istruttore di scuola guida e vi aspetto nei video aggiornamenti settimanali su Dashcam e sicurezza. A presto! Grazie! Grazie!